Sì, 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 guarda l'elicottero, ma ormai sono proprio sopra, guarda Sì, senza nemmeno perché ha un po' di un po' di un anno, quindi non è un po' di un anno, grazie. Grazie a tutti Guarda il genial, tutto il giro si vede Grazie Grazie Spreccio un po' tutto, sotto l'attesa Da, ho già passato Scegliamo Ah ma quant'è dici Quanta attesa per pochissimo Scegliamo 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 Fotografandolo non ho visto niente Scegliamo Tre secondi Scegliamo 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 Grazie a tutti.